La violenza di branco giovanile è una triste deriva della violenza di genere e va combattuta attraverso azioni concrete di natura educativa e formativa partendo dalla famiglia e dalla scuola. Questo è l'appello forte che l'associazione Women of Change Italia lancia durante Women in Cinema Award, il premio curato e prodotto dalla conduttrice e attivista Claudia Conte ideato insieme ad Angela Prudensi e Cristina Scognamiglio che quest'anno è dedicato all'eliminazione della violenza di genere. Con l'associazione Women of Change Italia ormai da più di un anno monitoriamo il triste fenomeno della violenza di branco giovanile e della violenza di genere tra le giovani coppie. Come attivista e presidente dell'associazione ho voluto lanciare questo nuovo appello durante Women in Cinema Award che si tiene in occasione della mostra internazionale del cinema di Venezia perché ritengo che noi attivisti e comunicatori abbiamo il dovere di spenderci in prima persona lanciando dei messaggi di sensibilizzazione e evoluzione in modo forte e chiaro. Grazie. Grazie a tutti.